Ciao, benvenuti all'opening della playlist scorci, mete, panorami e percorsi delle foreste casentinesi In questa playlist esploreremo virtualmente alcuni scorci, percorsi, mete delle foreste casentinesi Se questi video vi piacciono iscrivetevi al mio canale di Youtube, mettete un like oppure commentate questi video Ciao, in questa puntata di scorci di foreste casentinesi esploreremo virtualmente in tempo reale la passeggiata per Fonte Duchessa Alias Fonte Ceccona, è uno dei più bei sentieri delle foreste casentinesi E si accede da un fuori pista dalla strada statale, seguendo il cartello per il sentiero Circa 800 metri, con un paio di salite leggere, il sentiero è molto largo e ben tenuto Si snoda in mezzo ad una imponente foresta di abeti Si giunge poi a destinazione ad una fonte, dove un tempo c'era acqua potabile direttamente da una sorgente della foresta E' una meta ed un percorso molto frequentato in estate da sportivi quanto da amanti delle passeggiate E' sicuramente una meta imperdibile da visitare nelle foreste casentinesi Questo percorso non lo trovate dentro Street View, dato che è un sentiero fuori dalla statale Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti